Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Sherwood Radio, siamo qui con uno dei opening acts di settimana scorsa al Sherwood Hip Hop Day 13esima edizione, Orly, già vincitore di varie edizioni della Sherwood Hip Hop Battle. Allora, come è stata, come la vivi l'esperienza di fare da opening al Sherwood Hip Hop Day? Come hai fatto quest'anno? Io credo che è intanto bello a tutti i grandi, io credo che sia l'occasione più grande che può avere un artista in Veneto, di base, soprattutto a Padova. Per me che sono nato e cresciuto qui era un sogno, quindi poi tu lo sai, me la sono proprio presa negli anni con i denti dal palco piccolo, dalle battle, dal live in palco piccolo fino ad arrivare lì è tutto, perché lavori tutto l'anno per fare le canzoni nuove, per fare una cosa diversa, per poi mostrarlo a migliaia di persone quando c'è l'occasione, se c'è, sono sempre super grato, poi il pubblico ha risposto alla paura, quindi incredibile. Allora, parlami un po' dei tuoi prossimi progetti, prossimi release, in che fase della tua crescita sei? È una domanda complicata, sto facendo un sacco di cose, abbiamo un sacco di cose pronte che usciranno nei prossimi mesi, sto capendo come farlo uscire nel migliore dei modi, ma le canzoni già ci sono, a livello musicale è una ricerca per me, semplicemente di quello che mi piace, di non scimmiottare quello che mi piace, ma prendere le cose che mi piacciono e volverle e tirarle fuori a modo mio, quindi di base è questo. La scrittura cosa significa per te, che tipo di ricerca, cosa cerchi nella scrittura, come avviene con questo processo di scrittura e poi di post-produzione, diciamo, di quello che scrivi? Io non la ricerco la scrittura, cioè proprio mi cerca lei, nel senso che quasi, a volte gli ramo contro, nel senso che scrivo poco, ma ho la testa che mi scoppia di idee, di frasi, di argomenti, quindi mi cerca lei, ne nasce quello che ne nasce e poi tutto il resto del procedimento del lavoro, ormai negli anni ho capito come lavorare per chiudere delle cose, quindi una volta che riesco a buttare fuori l'idea è solo da correre per chiuderla finché è fresca, finché è ancora calda. Una domanda un po' più, diciamo, culturale, sociale, secondo te c'è una sorta di rischio di avere una scollatura fra quello che il retroterra del hip hop e quello che invece rischia a volte di essere frainteso oggigiorno? Sicuramente, ma viene frainteso dalle persone che fanno musica, non dagli ascoltatori, nel senso che tutti quelli che fanno rap, che hanno un background rap, si sono volontariamente poi messi magari a fare delle altre cose o adesso che va di moda la musica da giostre, fanno quello e nessuno li obbliga a farlo, gli manca del gusto a loro, evidentemente, gli manca del background a loro, comunque, gusti e c'è chi ha dei gusti più appetibili e chi ha dei gusti che seguono quelli degli altri. Quindi sono un po' vittime di questo misunderstanding, questa accantonata madonna. Sì, hanno bisogno di un abbraccio. Allora, e cosa si può fare noi che magari la viviamo in prima persona o anche dietro le quinte? Che tipo di messaggio possiamo lanciare secondo te? Quali sono alcune iniziative che secondo me possono aiutare a andare oltre questo? Guarda, da questo punto di vista in realtà hai più tu a insegnarmi che io da dire, perché l'unica cosa che posso fare io è fare la mia musica nel modo più onesto possibile, nel modo in cui mi viene a me e poi cercare di trasmettere alle persone il modo in cui lo faccio e perché lo faccio e deve arrivargli quello, se non gli arriva pace. Però io non posso inculcare alla gente dei valori o dei principi o del gusto che io credo di avere e chi mi ascolta ha. La radio è uno dei mezzi più rivoluzionari, almeno quando è uscito. Oggigiorno in questa società quanto frenica, distratta da un sovraccarico, overload di input, quale potrebbe essere il ruolo della radio e che tipo di risorsa può essere secondo te? Secondo me può essere semplicemente una risorsa gestita, bene, che comunica bene cose giuste alla gente e poi ripeto, nessuno può inculcare alla gente cosa, ascoltare dove indirizzarsi, ma più ci sono proposte valide, proposte buone, più c'è il rischio che la gente finisca in cose buone e in cose valide, secondo me. E tu come vivi l'esperienza dell'ascolto, come ti aggiorni sulla musica in genere? C'è un mezzo che raccomandi alle persone o in cui ti senti più a tuo agio? Guarda, banalmente come tutti al giorno d'oggi e soprattutto Spotify per me è la piattaforma su cui ascolto più musica, ma è più il modo in cui si ascolta musica. Io consiglio alle persone di ascoltarsi i dischi interi, di non ascoltarsi una canzone per disco o due canzoni per dischi, secondo me si perde veramente tutto, se apprezzate un artista dovete ascoltare il lavoro intero per capire qualcosa, perché sennò avrete sempre un collage Sì, soprattutto per album tipo concept albums, come il lavoro sete dell'artista, il headliner di stasera Certo, certo Che rischi di avere una frammentazione che penalizza un po' Ok, grazie, un ultimo saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici Grazie Grazie Grazie